Allora, vediamo se è questo, il paracadute, ho provato a rincorrerla ma non ci sono riuscito a vedere l'atterraggio, peccato, segnale fondo scala, io sono entrato, qui dietro c'è una cascina dietro questo albero, vediamo se è lei, si, qui dov'è, paracadute, pallone, infatti era pesante oggi, era molto pesante, allora andiamo a vedere dove è andato a finire per la sonda, eccola qua la sonda, eccola qui, la sierra 26 40 886 recuperata nel comune di Fornovo, allora io la sentivo da lì che è la rivoltana, l'ho sentita da lì, però me la dava praticamente al contrario e lei è atterrata qui dietro questa grandissima cascina, ok? Naturalmente non sono riuscito a riprendere l'atterraggio purtroppo, anche se è scesa abbastanza, diciamo, velocemente, nonostante avesse una velocità di rispetto al suolo, non dico elevata, però ho ottenuto una bella media, è scesa velocemente perché, guardate, ha tutto il pallone, questa secondo me è scoppiata, sì, ma andando su a 35.000 metri è restato il pallone, guardate com'è, tutto intero, è raro vedere tutto il pallone, tutto intero, con il suo paracadute, perfetto, perfetto, l'abbiamo recuperata, comunque la sentivo anche dalla strada statale, la strada rivoltana e va bene, l'abbiamo presa, ok, grazie a tutti.